Professore, assieme a Mario Cereghino, avete scritto diversi libri sullo fenomeno giuliano, ben sette. Cosa ha di diverso questo libro rispetto ai precedenti? Di diverso ha sicuramente una lavorazione centrata sulla documentazione, non che gli altri libri numerosi sul tema di Portella della Ginestra non fossero documentati, ma questo lavoro rappresenta la parte conclusiva, finale, di un percorso che si chiude, credo definitivamente, dal punto di vista storiografico, in quanto abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su un personaggio e su una vicenda, quella di Portella e delle stragi del 1947, che hanno segnato la storia dell'Italia nella fase in cui nasce il nuovo Stato dopo il crollo del fascismo. In questo libro si inquadra meglio la figura del bandito giuliano, che è stata un po' mitizzata, quasi un bandito di tipo sociale, in realtà è un bandito di tipo politico. Ci spieghi la differenza? Sì, di fatto l'errore è stato indotto dalla storiografia di Eric Hobsbawm, il quale ha una concezione, è scomparso recentemente, una concezione del banditismo che è di tipo romantico. Qui non abbiamo a che fare con un bandito romantico, con un Robin Hood che ruba i ricchi per dare ai poveri, qui abbiamo a che fare con un bandito che è sostanzialmente politico, legato alle versioni nere. E questa è la differenza. Quindi un percorso che noi, io e Mario Cereghino, abbiamo concluso e che io avevo cominciato 15 anni fa attraverso l'analisi delle carte del processo di Viterbo. La scalata di giuliano avviene nel momento in cui viene avvicinato dal principe Pignatelli, è così? Sì, di fatto Giuliano non è il bandito che se ne sta sulle montagne di Montelebre, è un bandito che dopo l'uccisione del carabiniere Mancino segna un percorso piuttosto interessante, perché da quella data, che coincide, ripeto, con l'uccisione di un carabiniere, avvengono in Italia e in Sicilia delle cose che sono legate a questa doppia anima che ha l'Italia. Da un lato il neofascismo della Repubblica di Salò, al quale approderà anche Giuliano, e dall'altro lato quell'ala che poi sarà costituzionalista in seguito, che segue la costruzione del nuovo Stato dopo il crollo del fascismo. Perché il principe Pignatelli sceglie proprio Giuliano? È una scelta casuale oppure è un episodio specifico? Perché noi avevamo un'Italia divisa in due. Al nord vi era una presenza notevole di gruppi neofascisti legati al terrorismo nero settentrionale, con sede centrale a Milano. Al sud, e quindi a Cosenza, Napoli, in Calabria e anche in Sicilia, vi era a macchia di Leopardo una presenza eversiva che faceva capo all'eversione nera, cioè a quella realtà aristocratica in cui la nobiltà decaduta era interessata a recuperare in direzione neofascista e precedentemente lo aveva fatto in direzione nazifascista, a recuperare questa saldatura tra l'Italia del duce e Mussoliniana di un tempo e l'Italia futura che questi aristocratici volevano recuperare alle loro logiche e ai loro interessi. Dopo l'uccisione di Mancino, il principe Pignatelli capisce che ha un personaggio che può manipolare come si manipolavano allora e anche oggi purtroppo molte realtà criminali in funzione politica. Per cui, ecco, è da lì che parte la vicenda di Giuliano. Giuliano interessò sia il principe Pignatelli e la borghesia nera, ma anche gli anglo-americani. Cosa videro in Giuliano gli anglo-americani? Beh, i primi rapporti sono di Vincent Scamporino, il quale scrive a Washington, ai suoi superiori, e dice guardate che qui a Montelebre c'è un picciotto, diciamo, che non si fa posare la mosca sul naso, fa al nostro caso perché ci potrebbe essere utile per molte circostanze. Contemporaneamente gli americani erano interessati dopo lo sbarco del luglio del 43 a gestire la Sicilia. E non solo la Sicilia, ma il Mezzogiorno e tutta l'Italia. Non solo lottando contro il nazifascismo, ma utilizzando quelle componenti decadute del neofascismo in funzione antidemocratica. Quindi ci furono delle vere e proprie forme di alleanza tra gruppi eversivi neri, aristocrazia nera, e esponenti autorità del mondo militare americano per il progetto comune di sbarrare la strada alla democrazia e favorire, diciamo, la rinascita di un'Italia conservatrice legata al vecchio mondo. Anche perché si temeva l'avanzata dei comunisti. Nel frattempo motoravano anche rivendicazioni per l'occupazione delle terre, contro il latifondo. Quindi c'era l'interesse, diciamo, a fermare questo movimento dei lavoratori, no? Sì, certo. Il problema degli americani non era stato tanto quello dello sbarco, perché le loro truppe erano abbastanza equipaggiate. Il loro esercito, come anche l'esercito britannico, era un esercito forte, potente, abbastanza robusto. Non avevano bisogno della mafia per lo sbarco. Avevano bisogno della mafia per mantenere il controllo sul territorio dopo che le truppe alleate se ne fossero andate. Quindi c'era un problema di controllo del territorio in assenza, diciamo, dell'occupazione militare. Quindi gli americani guardavano più al futuro che al presente. Siccome la Sicilia era una Sicilia, come del resto d'Italia, in pieno fermento, poi la Sicilia era, diciamo, una delle prime regioni italiane a manifestare rivendicazione di natura egualitaristica. I contadini si battevano per i contratti di lavoro nelle campagne, gli operai al nord si battevano per migliori condizioni di vita nelle fabbriche. Perché c'era la necessità da parte dei conservatori di mantenere, diciamo, un'Italia che fosse moderata, ma soprattutto anticomunista. Il libro parla di una trattativa vera e propria tra Giuliano e i capi politici del tempo. Una trattativa abbastanza inquietante, dove c'è un patto nel quale si, diciamo, si stabilisce che la parte politica garantirà l'impunità a Giuliano, garantirà la ministria, in cambio però di fatti sanguinosi, portate dalle ginestre e fra queste. È una supposizione o dalle vostre carte, dei vostri documenti risulta con chiarezza questo? No, risulta con chiarezza dalla vasta documentazione che abbiamo. Ci fu una vera e propria trattativa tra le prime, diciamo, bande criminali e lo Stato attraverso, diciamo, l'egemonia e il consenso delle truppe di occupazione anglo-americana. Queste truppe erano interessate a mantenere un ombrello protettivo in Italia che servisse a evitare che, come dicevano loro, le forze di Stalin occupassero Piazza San Pietro. erano interessati a creare uno stacco, quindi delle operazioni di tipo stay behind, in cui ci fossero gruppi agguerriti capaci di contrastare ogni possibile rischio in questo senso. E, di fatti, l'Italia che noi abbiamo per il periodo che va dal 1945 fino al 1946, quando nasce la Repubblica, è un'Italia in cui la presenza eversiva e neofascista è molto forte, in cui sono forti i gruppi di Junio e Valerio Borghese e l'esame e i farri. L'esame erano le squadre di azione Mussolini e i farri erano i fasci di azione rivoluzionari legati, diciamo, alle versioni nera. La trattativa ebbe dei testimoni, alcuni anche eccellenti. Sì, la trattativa ebbe dei testimoni eccellenti, ma soprattutto delle vittime, perché nel trattare la cosiddetta Banda Giuliano fece delle operazioni stragiste, Portella, Bello Lampo, eccetera, ma operò in modo che gli esiti finali fossero l'uccisione di centinaia di carabinieri, l'assalto a gruppi di graduati che facevano solo il loro mestiere e il loro dovere e nello stesso tempo ci furono le decapitazioni del movimento contadino e sindacale. Cioè saltarono tutte le teste che dovevano saltare e perché lo Stato potesse realizzare appieno la propria azione diretta in un territorio in cui invece a esercitare questa azione volevano essere soltanto i neofascisti. E con l'opinione pubblica si è tornata a rinteressarsi del caso Giuliano anche dopo la riesumazione del cadavere. Un'inchiesta ancora aperta e non sono ancora, diciamo, conclusi gli esiti, gli accertamenti. Ecco, allora, la tesi che si vuole dimostrare il libro è che Giuliano è ancora vivo, che in realtà fu una clamorosa bufala o cos'altro? Nella parte terminale, diciamo, della trattativa le cose andarono per versi che sono evidenti anche all'opinione pubblica coeva del tempo. Cioè un falso conflitto a fuoco. Giuliano non morì in un conflitto a fuoco. Mancano dei dati che riguardano, ad esempio, l'autopsia del corpo. Il professore Bellocco, che è un perito legale, ci dice che dal confronto di alcune immagini fotografiche originali che egli ha avuto per le mani, quei cadaveri sembrano a lui essere diversi. Quello del cortile di Castelvetrano, dove si affacciava la casa del dottore Di Maria, è il cadavere dell'obitorio. Gli stessi familiari di Giuliano non riconoscono il corpo del loro congiunto, perché la madre sviene prima, contrariamente a quanto si dice nel film di Rosi, che costituisce un capitolo a sé, diciamo, nella ricerca. E non viene riconosciuto il cadavere neanche da parte della sorella Giuseppina, che sviene dopo la madre, anche lei senza vedere in faccia il volto di Giuliano. Quindi ci sono parecchi elementi di, diciamo, di oscuri, di incertezza. Noi non sosteniamo una tesi, noi mettiamo in fila tutto quello che abbiamo potuto accertare per dimostrare come la sequenza, diciamo, dei fatti deponga non tanto per le verità ufficiali, ma per quelle verità che invece non ci sono mai state raccontate. Qualche anno dopo Pisciotta disse che a uccidere Sabatole Giuliano fu lui. Sì, ma Pisciotta era, diciamo, un'espressione dei carabinieri. Pisciotta non rappresentava se stesso e la sua famiglia, rappresentava più che altro il suo amico Antonio Perenze, che era un agente dei servizi segreti per conto dell'arma dei carabinieri, e rappresentava il generale Luca, che era stato, in epoca fascista, a stretto contatto con Mussolini. era un elemento molto, diciamo, particolare all'interno della banda. Quindi, che lui a un certo punto avesse potuto subire delle pressioni volte a dimostrare che quel corpo fosse di un morto che si chiamava Salvatore Giuliano, costituiva interesse precipio da parte di alcune autorità dello Stato. Ma non perché questo fatto, diciamo, sia accaduto nei termini in cui l'abbiamo potuto riscontrare, e di fatto si riscontra, questa affermazione di Pisciotta al processo di Viterbo, non per questo il fatto asserito è vero. Ci sono diversi testimoni che parlano di sosia di Giuliano, e ci sono anche, diciamo, testimoni eccellenti in questo senso, tra cui anche Padre Pio, è così? Sì, Padre Pio risulta dai libri di Lello Vecchiarino e dalle testimonianze di alcuni giornalisti che non credesse per niente alla storia che Giuliano fosse morto. È Padre Pio che parla, non è Giuseppe Casarrubbia che lo sostiene. Cioè, succedeva che alcuni siciliani andavano a trovare Padre Pio e Padre Pio alla domanda come andava in Sicilia si sentiva dire, ma sì, c'è il caso Giuliano che hanno ammazzato, e lui cosa rispondeva? Sì, Padre Pio era, non solo scettico, si prendeva a burla di quelli che credevano nel conflitto e nella morte di Giuliano e li invitava a essere un poco più scaltri. In effetti, la convinzione di Padre Pio era che Giuliano fosse scappato in America, come ebbe a dirlo parecchie volte. Del resto, anche il cognato di Giuliano, Pasquale Pino Sciortino, in un suo libro dell'85, sostiene che Giuliano poteva non essere morto. E la signora Brai, che era la proprietaria di un archivio fotografico privato, alla quale Sciortino si era rivolto per un suo libro di quegli anni, disse più volte che Giuliano non era morto, era vivo, che se ne era scappato in America. Altri hanno sostenuto, e nel libro questo emerge in modo chiaro, che Giuliano fosse scappato in America in un'epoca nella quale pare che anche Don Tano Badalamenti si era dato da fare ed era stato acciuffato dall'FBI. La stampa americana parlava proprio di questi fatti e in molti casi dava anche per scappato in America lo stesso bandito. Era la stampa americana che lo diceva. Quindi ci sono parecchi elementi che depongono per questa interpretazione. Noi abbiamo sentito il dovere prima di tutto di raccontare quello che noi abbiamo sentito all'autorità giudiziaria. Ne abbiamo parlando, abbiamo fatto un esposto e abbiamo chiesto che si indagasse. Siamo anche convinti che la verità storica è una cosa e d'altra parte questa verità tutto quello che noi abbiamo detto io e Mario Cerechino risulta confermata da tutti questi testimoni che sono stati tirati. C'è un agente segreto che nel 71 c'è un agente segreto diciamo che nel 71 dichiara di aver accompagnato Giuliano in persona al funerale della madre e di averlo poi riaccompagnato per la via del ritorno vi è la testimonianza di due infermieri che raccontano quello che hanno sentito con le loro orecchie dalla viva voce di Gregorio Di Maria che ospitava il morto entro virgolette a casa sua la notte del 5 luglio del 50 lo stesso Di Maria dice quello era un povero disgraziato chissà chi era quel poveretto era un povero disgraziato Giuliano era già scappato questo lo racconta Gregorio Di Maria nella pienezza della sua lucidità ora un cittadino che sente queste cose che sa queste cose all'obbligo di riferirle perché se Giuliano vedete fosse stato uno criminale qualunque va bene è un criminale dopo 60 anni ma su Giuliano pesano 411 delitti gravi in gran parte stragi e omicidi 100 carabinieri ammazzati 2-3 stragi gravi con decine dei morti quindi non si può ignorare questo fatto cioè non si può far finta di non sapere la strage di Portella della Ginestra di fatto inaugura la prima importante strage della storia della Repubblica che ancora non è del tutto chiarita sì la strage di Portella fu commissionata diciamo alla banda neofascista di Giuliano fu commissionata Giuliano era lì era lì con altri soggetti e quello che noi sappiamo è che l'operazione serviva a bloccare il processo di crescita della sinistra in questo territorio ma basti pensare che ad esempio a Partenico dopo i fatti del 47 la sezione del PC riaprirà a distanza di tempo a Borgetto dopo 20 anni il sindacato nasce lì dopo 20 anni e così in altre parti diciamo della Sicilia dove c'erano stati attacchi violenti della mafia che aveva la mafia aveva consentito tutte queste operazioni ecco lì il ritardo della sinistra è stato notevole quindi quando noi diciamo anticomunismo erano poveri lavoratori che cercavano diciamo di vivere una vita più dignitosa non volevano altro quindi purtroppo questo anticomunismo è perdurato nel tempo sotto diverse forme ma dietro l'anticomunismo si è sempre nascosta l'antidemocrazia la verità dei fatti è questa che non si voleva tanto lottare contro il comunismo quanto in realtà impedire al processo democratico dello Stato di potersi realizzare secondo i dettati della Costituzione italiana ecco la vicenda criminale di Giuliano si svolge negli anni diciamo che sono preparatori della nascita della Repubblica possibile che i padri della Costituzione e i padri della Repubblica abbiano tollerato non sapevano di quello che c'era attorno di quello che si verificava in Sicilia sapere quello che accadeva sotto il profilo diciamo dei fatti criminali era di competenza del Ministero dell'Interno e io sono convinto anche perché le carte i documenti che abbiamo parlano chiaro il Ministero dell'Interno sapeva esattamente cosa stesse accadendo tant'è che il capo della Polizia si riuniva con membri del governo De Gasperi e si riuniva anche con esponenti del neofascismo e dell'eversione nera su scala nazionale per impedire che ci fosse quell'avanzata democratica di cui abbiamo parlato quindi i servizi segreti italiani il SIS eccetera erano informati e informavano l'organo superiore di quello che si stava maturando noi abbiamo recuperato dei documenti in cui agenti segreti riferiscono al Ministero dell'Interno che erano in corso di preparazione determinate stragi e la gente scrive ma noi vi avevamo avvisati che stavano preparando delle stragi quindi i servizi segreti facevano il loro mestiere era il potere politico che decideva in un senso e il potere politico non poteva decidere in un senso se non avesse avuto coperture ben precise da oltreoceano da oltreoceano oltre che da certi paesi europei a che si rivolge il suo libro il mio libro si rivolge alla coscienza di tutti gli italiani onesti che su un fatto tragico della storia d'Italia possano finalmente questo è il nostro auspicio riflettere per capire come sia stata diciamo travagliata la costruzione della democrazia nel nostro paese è stata travagliata quindi vale la pena per i giovani conoscere questa storia perché è una storia che se non si conosce non si potrà mai sapere cos'è l'Italia e la sua storia contemporanea si può capire meglio la storia contemporanea se noi sappiamo la storia di ciò che è accaduto 60 anni o 70 anni fa abbiamo una maggiore consapevolezza quindi io penso che i destinatari del libro anche perché il libro è scritto con uno stile agile non ci sono appesantimenti di note abbiamo un archivio qui quindi chiunque volesse informazioni abbiamo un archivio che costa di migliaia di carte non abbiamo voluto appesantire il libro quindi lo abbiamo reso snello molto diciamo accessibili al grande pubblico non per questioni economiche perché in queste cose di solito noi che non scriviamo romanzi scriviamo libri impegnativi abbiamo la speranza appunto di poter raggiungere la coscienza di quelle persone che sono sensibili e che vogliono saperne di più che non si accontentano di bere tutto quello che gli si dà da bere ecco quindi è un'operazione critica di solito ci attiriamo antepatie addirittura ci sono professori che hanno delle riluttenze o perché non li citiamo noi citiamo fonti di archivio non citiamo autori e libri citiamo soprattutto fonti di archivio e questo spesso nuoce diciamo alla salute degli autori seri perché non sono trattati con quella generosità che meriterebbero avendo studiato per decenni un fenomeno no anzi sono attaccati e trattati male quindi non ci aspettiamo niente da nessuno abbiamo voluto semplicemente fare un'operazione di trasparenza ed informazione civica civica oltre che culturale perché quello che diciamo non ce lo siamo diciamo tirati dalla manica oltre che oltre che oltre che